Uno scambio di esperienze per favorire un corretto dialogo di interscambio in questioni legate alla cultura, al turismo e al commercio. Questo è il motivo che ha portato in campagna e in visita ufficiale una delegazione dell'Ucraina, che resterà sul territorio fino al 25 luglio. Tra le tappe della visita, l'incontro tra i rappresentanti della delegazione e l'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe. Napoli da anni oramai ospita una folta comunità di ucraini, proprio per questo motivo durante l'incontro che si è svolto questa mattina nella sede della Curia, in largo Donna Regina, si è parlato dell'impegno della diocesi nell'aiutare gli ucraini arrivati a Napoli nella ricerca di un impiego di un tetto sulla testa. Al termine del confronto, la delegazione si è recata poi in visita al Duomo e al Museo del Tesoro di San Gennaro.